Salve a tutti, sono Gabri Costa e oggi recensirò le 15 skin del Dottor Neo Cortex, visto che stiamo parlando di Crash Team Racing Nitro Fueled. Voi lo sapete tutti che il Dottor Neo Cortex è la nemesi di Crash. Ci ha provato a distruggerlo, ma ha fallito tante volte, ricordatevelo, Cortex è stato come un padre per Crash, l'ha creato, curato, ha provato a distruggerlo, ma non ci è mai riuscito. Guardate come sono fatte le 15 skin di Cortex, può diventare verde, rosso e blu, poi diventa anche retro, poi c'è Cortex Stellare, diventa anche un ninja. Questa skin di Cortex Ninja c'era anche in Crash Tag Team Racing, se non sbaglio, diventa anche un robot Cortex, poi diventa elettronico, un faraone, un clown, poi fa parte delle terre rugginose, ma quando Cortex è un robot, ha questi tre colori, diventa anime, arrugginito e binox. Ho finito, la recensione finisce qui, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, potete anche condividerlo se il video vi è piaciuto. Grazie Grazie Grazie.